Ma Cristiano Ronaldo la sembra più Martufello Beh Romagnoli sembra Martufello Esatto Romagnoli sembra Cristiano Ronaldo Sfida fra i gemelli Martufello Uh Mario Lui c'è che ci assomiglia Andiamo così? Andiamo così dai C'è l'anoglu la va cavato secondo me Ecco gigantografie di Cristiano Ronaldo che capiggiano Questa è la prima partita che conta Conta poco perché Conta molto è un trofeo Supercoppa Italiano Prima partita contro la Juve che è un banco importante Banco di Sardegna Sassari Il campo Il campo Come vedete sono molto ottimista Io chiamo il gol 7 minuti prima che ciò Venga Madonna questo è un partiere forte Eh contro Cristiano può essere forte che vuoi un gol te lo fa Te lo dico A parte che abbiamo già sperimentato col Padova Qua svegliamo parte di Carriere passate Eh vabbè però Sì però qua Musacchio cosa ne ha fatto Eh non ci cazzo Ma io ne mangio chi ci ha punito Con la Juve sappiamo che dobbiamo fare un gol più di loro C'è poco a fare È un po' una regola universale del calcio Sì però particolarmente con questi Perché difendere non puoi difendere E farli finire a zero è praticamente impossibile La mette in mezzo con questo pallone La mette in mezzo con questo pallone Sono sui torti loro non ho tosto nessuno A questa parte Corre al battuto in mezzo Vai bacca Uh è finita Sbomba 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 Non c'è molto tempo per tirare con loro purtroppo Guardami Vai Gigi 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 Buonaventura Gigi Buonaventura Gigi Buonaventura Esatto Il modello di Tommy Alfred Tra le altre cose Cosa? Gigi a Di Buonaventura Cosa? Pienso sempre ad Alexander Arriva Manskic E lo butta Vediamo di nuovo Eh che cazzo Eh ho visto Ah Signore Quanta fatica Mi ricordo i bei tempi in cui vincevamo le Supercoppe con Montella Esatto Con gol di Locatelli No C'è stata la deviazione L'Allianz Stadium sorge sulle cederi della Buona ridere qui Noo ma perché l'hai fatto? Perché ti vedevo bene ma non ti ho visto male Eh capito ma cosa fai a darmela con l'uomo in mezzo? Non ho visto l'uomo E non lo vedevi bene? Eh cosa si No l'avessi nato comunque però Eh ma magari me la rispingeva da solo L'avevo più possibile Quel beso Il piano con il fantacalcio Per favore Che giocata Segna questa che va bene Pacchietà Bella lì È l'uomo in più pacchietà eh Si Si inserisce bene anche Si Eh un C o C Tutti gli effetti Il Cock Eh scusate Il Miglio demonetizzato Esatto A parte che demonetizzerei anche quando dice Alexandre Beh probabilmente lo farò chiamarti Alexandre dai Come chiamarsi Dybala Come chiamarsi Kailanoglu Kailanoglu Che poi non sia così eh E come ha fatto a dare addosso? C'è si è impegnato Che appravesca Mentre le guardadine Riccardo Rodriguez So che non puoi fare praticamente nulla Buonaventura Ancora Gigi Si prova Gigi Buonaventura C'è la tribuna D'onore hai visto? Ah si Con i seggiolini gialli Tutti in estina Che dal ventennio che non si vedeva Uno spalto gremito di maglieta nera così Esatto Gigi per noi Gigi per noi Guarda Guarda Gigi Va lento Suso Ah un po' un attimo mi sono anche fermato per cercare di staccarmi l'uomo Ma anche... ma fa che non c'è nessuno da sto lato? Perché Calabria era troppo compatto da lasciare il numero a una tifosa nella prima fila Gigi Esatto Gigi Buonaventura Guarda che sfortuna Ma che sfortuna Ma che sfortuna Ma che giocate fanno Stavo per non diventarlo più io Sì vabbè questi segnalo quando vogliono ho capito Un secondo Non devi neanche chiedere E vabbè non è possibile Che grande parata che ha fatto E poi Ci serve un portiere così Ehm Ma non devi giocare partita di questo livello si con squadra di questo livello questo è fallo magari arbitro mi ha preso la caeccia come dico in spagna esatto poi ovviamente impallidisce si toccina Maggio Kiccio è toccata bene mentre che sia il posto di Paquetà ci sta qualità c'è qualità il potere direi quindi avanti ma che parata mi hanno recentrato tutto è sbaglio ma riproviamo provaci dai anche se i musacchi no il tiro in giro di musacchi lascia desiderare mamma mia ecco ancora la tribuna d'onore ci sono subito i rigori oppure no no ci sono i 90 minuti regolamentari di nuovo la verità è che si giocherà in eterno chi che non vincerà la giughe chiaro dibala basta così niente da fare dibala questa buca si è col posto di buonaventura lo spiritato da la grascosta può dare qualcosa in più in centrocampo in questo momento un po' di freschezza una bottiglia d'acqua la grascosta è il nemoniato moescan addirittura moescan mettono adesso sai quanto forte l'hanno fatto eh l'ho fatto non penso che andrà il tiro da lì meglio metterlo l'altro molucci batte la punizione sai quanto forte l'hanno fatto questa sega ops parliamo da tifosi milanisti quindi il bonus ce l'ha fatto un ricordo particolarmente un ricordo un po' come quando il mal di pancia non riesce ad aggiungere il bagno esatto grazie a lui ci siamo riusciti vai sbombalo deviato un angolo un muracchim la pa sopra e il tiro oh l'ho cambiato per sbaglio la vera è probabilmente presa sì però è tosta secondo tempo supplementare a partita che non vuole l'arbitro può fischiare l'inizio del secondo tempo supplementare ok ho bisogno adattare la lunga perché se no occhio a Suso sì eh ma sai che il mancino di Suso è vero? all'effetto reale sì che spettacolo si sentire con il destro non è capace ma il tiro a giro di sinistra ma che gol è questo? è un gran gol eh sì voglio vedere il gol è supercutta il primo trofeo che gol che gol ha usato ma che gol che risulta hai fatto? Gigi ancora lui decisivo eh sì beh ha preso un po' tutto uh vinci per noi eh sì attenzione ragazzi vediamo questa premiazione della Supercoppa Nazionale esatto allora Romagnoli capitano Romagnoli alzala per noi eh sì anche se probabilmente non è lui capitano sappiamo che il capitano morale è sempre molto libero esatto e un pepe rabbina uno di due eccolo con le braccia sparsiche attenzione strano delle braccia attenzione prima di andare da un tiraossi è contento su quello davanti quindi io sono Romagnoli alza la coppa i compagni gli prenotano una vista dall'osteopata esatto mentre uno per firmare passava attraverso la testa di quello davanti spettacolo ragazzi eh sì guardate quanto cosa sta succedendo guardate quanta bellezza in queste immagini come fanno le foto con davanti il blocco un movimento di bacino di bacca iocona l'avete visto ma quanto quanto è curata questa mamma mia quanto è curata guarda i fotografi che è realizzato è più curata guarda guarda i pezzi guarda Rodriguez che ha fatto che bene che ha fatto guarda la testa che si muove eh no questa è curata c'è un pelo meglio occhino almeno non si comprende tra no dai solo negli spogliatoi oh Dio va bene grande gol di Suso e portano a casa da Supercompa che gol ragazzi ha fatto tutto ha fatto tutto l'angolo della rete dal palo al retro bellissimo tiro a giro tra l'altro tiro a giro abbastanza anche forte perché l'offerta per trasferimenti Donnarumma aspetta che non vediamo quello sbaglio è il Paranà ebbè 700.000 in effetti mi aveva un po' però posso capire che il Paranà si è interessato Antonio Donnarumma ci può stare perché probabilmente avrà qualche fondo nello da occultare ma è bruttissimo questo allenatore è sformato è una pera non importa è perfetto per il Mila si non vogliamo meno di 100 milioni per Donnarumma spero che non ho sbagliato Donnarumma era soggetto a un bug sul mio gioco continuava a venderlo e falliva sempre la trattativa è perché se non vedi fratello non va è chiaro non è un bug è l'unica cosa programmata bene venduto Zapata offerta per Montolivo no Zapata ci arrivano 10 milioni no Montolivo 4,8 vale 4,2 no troppo poco va in discesa voglio 20 milioni per Montolivo sia valore affettivo di Montolivo occhio che è incastrato nel filo ok chi che se tiene mi sa che anche a me mi ottengo mi ottengo un 6,5 almeno rilancio importante spilorcio 6,2 dai non male vale quanto 4,2 di base però io lo volevo Montolivo stiamo sfoltendo un po' una rosa che va sfoltita si e soprattutto con 6 venduto Conti bene togliamo dall'allenamento 14 milioni e mezzo ok